Su questo canale ho parlato di tantissimi conti correnti, di tantissime carte conto e di tantissime app che permettono di risparmiare o di gestire le proprie finanze dalla carta IAP alla carta AIP, dal conto N26 al conto Revolut passando per il conto Illimiti Bank oppure per Oval Money e per il conto Monese e ancora per Conto, il conto pensato per freelance e per aziende per ognuna di queste ho realizzato una recensione e ti ho parlato di quelle che sono le caratteristiche i punti di forza e le funzionalità più interessanti a giugno del 2020 è entrato sul mercato un nuovo player un conto con IBAN italiano esclusivamente mobile, gratuito ma con una particolarità ovvero l'ecosostenibilità e l'attenzione all'ambiente e questo lo si può capire subito visitando la home page di FlowE che sicuramente non è la classica home page di una banca online di un conto corrente online o di una carta di pagamento FlowE è un'iniziativa strategica di Banca Mediolanum completamente slegata da Banca Mediolanum che punta ai giovani e alle persone più sensibili a temi quali la sostenibilità ambientale, l'ambiente, l'evoluzione sociale ed il benessere individuale così come ho scritto anche nella recensione che ho pubblicato su monetizzando.com che ti lascio linkata in descrizione prima di parlarti di FlowE e di fare dunque la mia recensione di FlowE ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale FlowE ti dà gli strumenti per gestire al meglio le tue risorse raggiungere i tuoi obiettivi e costruirti un futuro migliore attraverso un conto di pagamento con associata una carta di debito virtuale del circuito Mastercard e tantissime funzionalità per aiutarti a scoprire e sfruttare il tuo potenziale rispettando il pianeta ed una delle particolarità di FlowE è proprio la sua carta di debito fisica che può essere richiesta direttamente tramite app si chiama carta perché in legno scrive FlowE sul tuo sito ufficiale ma c'è di più perché la carta di debito Mastercard associata al tuo conto FlowE è realizzata in legno certificato per rispettare l'ambiente ed entriamo così nel vivo dell'argomento ambiente, sostenibilità e FlowE perché FlowE devi sapere che è una società benefit ovvero è una società che pur cercando come ogni azienda il profitto ha allo stesso tempo un obiettivo di tipo sociale grazie infatti alla partecipazione in un progetto di Natural Capital Partner FlowE sta contribuendo in maniera attiva a fermare la deforestazione di 47.000 ettari di foresta e si impegna anche a compensare quelle che sono le emissioni di CO2 prodotte da FlowE detta così probabilmente non a tutti è chiara l'importanza del compensare le emissioni di CO2 e proprio per questo motivo dopo essermi informato ho deciso di spiegare in maniera semplice perché è importante compensare le emissioni di CO2 perché ognuno di noi si dovrebbe interessare maggiormente all'ambiente e a quelle che sono le emissioni di CO2 che magari consapevolmente o inconsapevolmente ognuno di noi emette ogni giorno sicuramente avrai già sentito parlare di argomenti come il riscaldamento globale il surriscaldamento della terra o l'effetto serra avrai sentito parlare del problema dei cambiamenti climatici e la scienza ha spiegato che le emissioni umane di gas connesse ai consumi umani di energia di tipo fossile causa il riscaldamento climatico globale e questo è il primo nemico dell'umanità nonché la più importante sfida che oggi impegna l'ambientalismo e gli ambientalisti il problema del riscaldamento globale però non si limita semplicemente ad un innalzamento della temperatura che si ha sul pianeta terra ma coinvolge praticamente tutto origine infatti diversi fenomeni di alterazione dell'ambiente in ogni comparto tanto che i suoi effetti sono visibili sia a livello fisico che a livello biologico fenomeni meteorologici estremi deforestazione desertificazione o innalzamento dei mari diffusione di malattie tropicali e scioglimento dei ghiacci sono solo alcune delle conseguenze del riscaldamento globale e tutto questo è causato proprio dall'aumento di quelle che sono le emissioni di CO2 ovvero di quelle che sono le emissioni di anidride carbonica e cosa c'entra tutto questo con gli alberi e soprattutto con flowy gli alberi crescono e vivono utilizzando elementi naturali utilizzano l'acqua, utilizzano il sole, utilizzano la terra ma utilizzano al tempo stesso anche l'aria e per crescere e per sopravvivere gli alberi utilizzano un processo che conosciamo tutti ovvero la fotosintesi clorofiliana attraverso la fotosintesi gli alberi si nutrono di CO2 di fatto gli alberi sottraggono CO2 all'ambiente per creare energia la promozione di boschi e foreste dunque nonché le iniziative che propongono di piantare degli alberi o di creare delle aree verdi protette permette di aumentare la capacità naturale di assorbimento e fissazione del carbonio atmosferico gli alberi di fatto prendono l'idride carbonica e rilasciano ossigeno quindi favoriscono una rinaturalizzazione del territorio che spesso viene alterato proprio dalle attività umane torniamo dunque a flowy grazie alla partnership con zero CO2 flowy sta piantando degli alberi nella regione del peten in guatemala sia per compensare le emissioni di CO2 sia al tempo stesso per contribuire a sostenere l'economia e l'alimentazione delle famiglie locali pensa che sull'app di flowy potrai addirittura vedere dove si trova il tuo albero che tipo di albero è l'albero che è stato piantato per te da flowy e soprattutto se vorrai ricevere delle foto e guardare il processo di crescita del tuo albero una volta esplorata la peculiarità di flowy quindi questa grande attenzione all'ambiente all'ecosostenibilità e al rispetto dell'ambiente in cui viviamo andiamo a vedere insieme quali sono le funzionalità di un conto flowy una volta aperto il conto in descrizione troverai il link per aprire il tuo conto e potrai anche utilizzare il codice money flowy che trovi in descrizione per aderire alla promozione disponibile nel momento in cui stai guardando il video le promozioni di flowy infatti cambiano molto rapidamente e proprio per questo non te ne parlo nel video ma te ne parlo nella recensione di monetizzando che sarà sempre aggiornata una volta dunque aperto il tuo conto flowy potrai effettuare pagamenti in maniera semplice e veloce tramite smartphone ovvero tramite google pay ed apple pay avere a disposizione un IBAN italiano per inviare e ricevere bonifici effettuare prelievi in tutta la zona euro gratuitamente richiedere la carta fisica flowy che ti permette di piantare il tuo albero al costo di 10 euro ed avrai questa carta in legno prodotto con legno certificato che rispetta l'ambiente potrai inoltre pagare all'estero tramite smartphone gratuitamente presso tutti gli esercenti che accettano i pagamenti con circuito mastercard e poi potrai dividere la spesa fra amici creando dei gruppi di spesa e gestire dei veri e propri salvadonai digitali che vengono chiamati all'interno dell'app flowy drop con i quali raccogliere risparmi per delle vacanze o per dei progetti a lungo termine inoltre un'altra caratteristica di flowy è che all'interno dell'app troverai dei focus e dei mini corsi o pillole di saggezza che ti permettono attraverso brevi video di approfondire argomenti quali la crescita personale, la finanza, l'ambiente, lo sport e tante altre tematiche che verranno inserite o aggiornate nel tempo tutto questo è disponibile sia nel conto flowy fan sia nel conto flowy friends alcune delle funzionalità ovvero alcuni dei corsi presenti all'interno dell'area focus sono però disponibili a consumo nel caso del conto gratuito flowy oppure sono inclusi nel caso del conto flowy friends quel conto di flowy a pagamento vediamo dunque quali sono i costi del conto flowy le due tipologie di conto disponibili sono il conto fan che è il conto gratuito ovvero il conto a costo zero di flowy questo conto ha dei limiti per quanto riguarda la creazione di gruppi di spesa potrei infatti creare un solo gruppo di spesa e fino a tre salvatanai digitali differenti in alternative è disponibile il conto flowy friends un conto che ha un costo di 10 euro al mese e che ti offre tutte le funzionalità illimitate ed in più la possibilità di avere un saldo massimo del conto di 75.000 euro a differenza dei 10.000 euro di saldo massimo inclusi nel conto flowy gratuito ovvero nel conto flowy fan tutti i vantaggi del conto friends o le differenze le puoi trovare nella scheda qui a fianco ovvero sul sito di flowy infine un'altra funzionalità davvero interessante di flowy è la possibilità di impostare dei cash block ovvero dei limiti di spesa in modo da non spendere più di quanto non hai stabilito precedentemente se hai difficoltà a risparmiare o se hai difficoltà a gestire il denaro che hai sul tuo conto con il cash block potrai impostare dei limiti di spesa in modo da non spendere più di quanto vuoi spendere spero che questa recensione e questo video ti siano stati utili ti lascio tutti i link di approfondimento in descrizione ti lascio il codice sconto o il codice per attivare le tue promozioni disponibili su flowy in descrizione e ti invito come sempre a mettere un pollice in su iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita del canale per non perdere i miei prossimi video noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale